Ciao, sono Raffaella Cicogna e oggi ti insegnerò una pratica per appietare e calmare la mente. Può essere utilizzata come un utile reset durante l'alco della giornata o per prepararti alla buonanotte. Questa pratica ha una base di respiro consapevole e quindi ogni ispirazione sarà su base 5 e ogni ispirazione sarà su base 5 e quindi creeremo un ritmo che sarà costante nel respiro. Questa costante nel respiro costruirà il nostro stato di quiete e quindi la monotonia ci porterà nella quiete e nella calma. Oggi ti guiderò io ma poi chiaramente potrai praticare in qualsiasi momento dai 2 ai 7 minuti a seconda che tu abbia la possibilità temporale di farlo ma anche che tu abbia un buon allenamento e che quindi tu ti senta a tuo agio con questo ritmo. Ricordati di non sforzare mai il corpo e di non fare delle cose che senti non ti facciano bene. Quindi chiudi gli occhi, mantieni il tuo petto aperto, senti sforzo e senza collassare sugli agri. Trova una posizione che ti sia confortevole, fai i respiri grandi e partiamo. Inspira e contiamo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 S 2 3 4 5 In 2 3 4 5 S 2 3 4 5 In 2 3 4 5 S 2 3 4 5 S-2-3-4-C 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 3 4 5 es 3 4 5 in 2 3 4 5 es 2 3 4 5 in 2 3 4 5 es 2 3 4 5 ora fai un grande respiro fai attenzione a tutto il tuo corpo mantenendo chiusi gli occhi se senti una differenza nella tua temperatura se senti dei brividi nel corpo se hai una sensazione di essere più calmo, più quieto che ci sia una sensazione piacevole nel corpo puoi aprire gli occhi questo ritmo che io ti ho dato è un ritmo di base ma chiaramente puoi allungare il tempo e quindi le pause quindi puntare più lentamente o puntare più velocemente se il mio ritmo per te era troppo veloce ricordati di non forzare nulla di trovare il tuo ritmo e e buon allenamento